Buonasera a tutti, siamo in tanti, speriamo di non emozionarci. Sono Roberto e sono qui a raccontarvi una storia abbastanza particolare. Un giorno, verso la fine di settembre del 2012, ero al porto per vedere cosa avevano pescato durante l'ultima battuta di pesca i miei amici, tra cui Maurizio, titolare del moto peschericcio sirio. Quando sono arrivato lì, ho assistito a una scena che mi ha fatto star male, al punto di cambiare il mio pensiero, il mio modo di essere. In pratica, Maurizio stava buttando al mare il pesce per risparmiare almeno i soldi della cassetta, il polistoriolo, perché il pesce azzurro e il pesce povero, nonostante sia uno dei migliori prodotti a livello nutrizionale, ha un prezzo bassissimo ed a volte va invenduto, quindi buttava via il cibo e teneva il materiale inquinante. Per me è stato un segnale. Ho chiesto a Maurizio, come mai succede questo? Ha risposto, è il sistema. Non c'è interesse a valorizzare queste cose, perché costano poco, non valgono niente. Questa è stata la miccia che ha fatto esplodere le cose. Mi sono detto, come? Siamo arrivati a questi livelli senza nessuno? E' in grado di fare niente? In quel momento, partendo dalla forte violenza che ho subito, mi sono detto, bisogna fare qualcosa, bisogna partire. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Io non facevo parte del movimento dei focolari, ma l'idea di un'economia contocorrente con la persona al centro mi ha sempre affascinato. Quando ho sentito l'idea chiara di un'economia di comunione, ho voluto partecipare. Sono sempre stato legato al commercio. Ho tre figli, avevo un'attività fiorente nell'allenamento con mio fratello e ho lasciato tutto. Nell'aprile del 2013 ho aperto una nuova attività individuale e l'ho chiamata Economia del mare. Sì, certo, ogni volta che si butta il pesce è una sorta di sacrilegio, perché come barca, come equipaggio, abbiamo sempre scelto di accontentarci, di non lasciarci prendere dall'entusiasmo delle giornate di pesca miracolosa, ma prendere dal mare quello che ci dà giorno per giorno. Ma proprio perché il sistema in sé è arrivato a un punto che io credo malato, succede che, ad esempio, alle 10 del mattino tutte le piattaforme commerciali devono avere già sul tavolo il pesce per soddisfare gli ordini dei clienti. Il primo che arriva si aggiudica questo attraverso i commercianti. E se uno ha del pesce e arriva dopo, è costretto a buttarlo via, perché non riesce a commercializzarlo. Già vent'anni fa capivo che se non facevamo un passo indietro, l'unico futuro era l'impoverimento del mare. Adesso, dall'Unione Europea, vengono fuori tante restrizioni, perché si capisce che le risorse stanno scomparendo. Ma ci vuole anche l'umiltà delle persone competenti che possono dare consigli andando controcorrente. Questa cosa l'ho sempre vissuta da solo come una sorta di rassegnazione. Naturalmente questa nuova realtà mi ha portato a un repentino importante cambiamento. Il passaggio dal creare soluzioni col vetro per l'arredamento a trattare con i commercianti è stato forte. Nulla contro la categoria, ma non mi ricconosco. Il commerciante, seppur con tanta fatica e onestà, è votato principalmente al profitto e per questo spesso può cadere nella tentazione del denaro e fargli la cresta. A differenza dell'artigiano, del produttore, l'artista, vede nascere le sue creature e giustamente ne valorizza il frutto del proprio lavoro. Costruire cose concrete, mettendo al centro la persona, lo stare insieme e vivere l'azienda, tutti i valori che avevamo ritrovato nell'idea dell'economione proposta da Chiara Bubic. La radice di questa visione dell'economia sta nella pratica della comunione dei beni, anche nel campo dell'economia per costruire il bene comune. Certo, la competizione esiste, ci dobbiamo confrontare tutti i giorni con la tentazione di decidere quale strada prendere, però se l'idea è chiara, è scontata. L'altro non è l'avversario, ma l'amico, il fratello. Quindi noi dobbiamo cercare di essere homo homini natura amicus e non homo homini lupus. Da tempo sentivo questa spinta per dare una svolta alla mia vita. Infatti da un po' di tempo Roberto ogni volta che mi vedeva mi diceva che dovevamo fare qualcosa per l'economia di comunione, di cui aveva tanto sentito parlare e allora ho deciso di assecondare il suo desiderio perché in fondo corrispondeva alle stesse esigenze che sentivo dentro di me e sono andato da lui dicendogli e quindi sono pronto, facciamo qualcosa insieme. Con questo spirito è nata la nostra azienda, il Nustren. Nustren, in dialetto romagnolo, vuol dire il nostrano e significa proprio il pesce del nostro mare, del nostro territorio, ma del nostro mare. Questa cosa nasce perché ci siamo detti a un certo punto noi un reddito ce l'abbiamo. Cosa possiamo fare per contribuire a rovesciare questo sistema? Tutte quelle cose che non vorremmo fossero fatte a noi le potevamo tradurre apprendo uno spaccio di pesce dove conquistarsi la fiducia delle persone con l'onestà e sapendo noi per primi di dare un prodotto lavorato solamente con la catena del freddo e quindi senza alterazioni perché il pesce forse è l'elemento più alterato di tutti. E dalle pubblicità che passano alla televisione sul pesce congelato sappiamo che spesso si nascondono tanti vizi di mantenimento. Ora è un negozietto e può diventare anche un modo per relazionarsi perché le persone chiedono e quindi noi raccontiamo le nostre scelte. A volte vediamo la difficoltà delle persone a fidarsi. Solo il tempo potrà dire a loro se si possono fidare o no. Quello dipenderà da noi. Dalla nostra costanza e onestà. Le persone all'inizio pensano ma questi si fanno belli col biologico, con questo e con quell'altro. La nostra sfida è conquistare la fiducia delle persone realmente. Sì è vero, mi rendo conto. Noi abbiamo un piccolo spazio ma con un grande progetto. Qui c'è un'idea diversa, non votata solo al profitto ma alla persona. Mettere al primo posto la persona, la sua salute, il suo benessere, lo star bene, quello che ci manca. Perché se tu imposti un'azienda basata solo sul profitto, cosa ne hai della tua vita? Tanto prima o poi moriamo tutti, muori. Quindi metterti i soldi in tasca e fare capitali non è importante. Nessuno viene ricordato per i soldi che aveva ma per quello di buono e di bello che ha fatto. Ognuno di noi può fare tanto perché dentro ciascuno c'è del buono. Dobbiamo solo farlo emergere. Noi ci stiamo provando così con il Nostrand e quando ci riusciamo andiamo a riposare sereni e felici.